Per fare i frollini più integrali galbusera così ricchi di fibre, ci ispiriamo al nostro percorso salute. Scegliamo farine di frumento integrale al 100% e di grani antichi. Li facciamo senza conservanti, senza olio di palma e senza OGM. E quando usiamo le uova, sono solo da galline allevate a terra, fresche e italiane. In più usiamo olio di girasole alto oleico. Ecco perché i più integrali sono così buoni. Galbusera, percorso salute.